Segretario, oggi un'importante manifestazione a termini merese che rappresenta un po' il luogo simbolo del lavoro e del lavoro che manca in Sicilia. Sì, assolutamente sì, è un luogo simbolo della Sicilia, è un luogo simbolo di una regione che, malgrado i piccoli segnali di ripresa che il sud Italia sta avendo, non registra dati positivi. Abbiamo un tasso di occupazione che è più basso di 12 punti, più della Grecia che è l'ultimo paese europeo per tasso di disoccupazione e questo già dà un po' la misura. A termini merese abbiamo pagato un'industrializzazione che non è stata sufficientemente supportata, parliamo del caso Fiat per esempio, per mantenere i livelli occupazionali. Oggi, nell'ex stabilimenti Fiat, fortunatamente comunque un'impresa sta facendo produzione, la sta facendo bene con commesse anche importanti, ma non impiega rispetto ai 1400 lavoratori iniziali, non impiega più di 100-150 lavoratori per il momento. Non è abbastanza, non è abbastanza per termini merese, non è abbastanza per la provincia di Palermo, non è abbastanza per la Sicilia. Quali sono le proposte del sindacato che dirige? Le proposte sono assolutamente di fare interventi organici su tutto quanto il sud e vanno fatti soprattutto e prima di tutto in termini di infrastrutture. Poi va fatta una politica industriale, va fatta una politica industriale anche qui che deve riguardare il complesso dei paesi del sud. Noi, il dato che abbiamo rilevato con più fastidio e con difficoltà a comprenderlo, tutte le regioni del sud hanno avuto e hanno ancora una filiera corta con il governo, appartenendo alla stessa area politica. Non sono riusciti a fare un patto per il sud tutti quanti insieme. Ognuno si è affermato il suo patto per il sud, replicando semplicemente quello che si faceva nella prima repubblica, una lista della spesa con dei soldi assegnati che poi probabilmente neanche verranno spesi e non verranno spesi bene sicuramente. La Sicilia è ormai in campagna elettorale. A novembre si deciderà chi sarà il nuovo presidente della regione. Ci sono in campo tre schieramenti forti, il centrodestra, anche il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra. Il centrodestra si è ritrovato unito sul nome di Nello Musumeci. Il fatto che si è ritrovato unito il centrodestra sul Nello Musumeci mi fa assolutamente piacere. Intanto per un'unità di intenti di un'area politica importante in questo paese. Personalmente conosco Nello Musumeci da tantissimi anni, quasi dall'infanzia direi, ed è sicuramente persona per bene, persona preparata ed è un amministratore in grado di dare una speranza e un futuro a questa regione.